Tutto pronto per la quattordicesima edizione del Paglio dei Borghi. A Cerie il 14, 15 e 16 giugno. Tante attrazioni per un evento imperdibile. Venerdì 14 giugno il saluto della Marchesa Margherita di Savoia ai borghi partecipanti. Sabato 15 giugno la grande sfilata in notturna e le prime gare di tiro alla fune. Gran finale domenica 16 giugno con la staffetta podistica, tenzoni equestri e finale di tiro alla fune. E alle 19 l'assegnazione della spada al borgo vincitore. Venite a Cerie il 14, 15 e 16 giugno alla quattordicesima edizione del Paglio dei Borghi.